In occasione della giornata mondiale dell'ascolto del 21 ottobre, Durex ha presentato i risultati della settima edizione dell'osservatorio Giovani e Sessualità, realizzato con Scuola.net su un campione di 15.000 giovani tra gli 11 e i 24 anni. Fra i dati emersi, evidenziato come i giovani si approccino al sesso prematuramente. Uno su dieci ha infatti il suo primo rapporto sessuale prima dei 13 anni. Più della metà dei giovani consulta internet per chiarire i propri dubbi e anche il confronto sulla prevenzione è scarso. Un quadro sul quale riflettere con attenzione, spiega Laura Savarese, direttrice affari regolatori e relazioni esterne di Rechit Italia. In una giornata simbolica come la giornata mondiale dell'ascolto, il dato che principalmente emerge dai risultati dell'osservatorio di quest'anno riguarda l'assenza di dialogo e l'assenza di confronto. Un dato veramente sconcertante dell'osservatorio di quest'anno è che meno del 4% dei giovani ha ricevuto informazioni sull'utilizzo del preservativo dai loro genitori o dai loro adulti di riferimento. Questo dato è molto preoccupante perché non stiamo preparando i nostri figli e i nostri ragazzi ad affrontare un tema così importante e a poter vivere la loro sessualità in maniera libera, protetta e consapevole. Anche per questo Durex si è proposta per dare un aiuto concreto alle famiglie con diverse iniziative, come illustrato da Paolo Zotti, amministratore delegato di Rechit Italia. In Italia l'educazione sessuale effettiva non è obbligatoria nelle scuole. Chiaramente quello che succede è che i giovani si rivolgano ad internet e quindi nel mondo del web possono trovare delle informazioni nella sfera sessuale ed affettiva che possono essere fuorvianti o possono essere non appropriate. Noi come Durex, come leader del benessere sessuale ed affettivo, abbiamo iniziato un programma circa un anno fa nel comune di Milano, un programma nel quale abbiamo la possibilità di creare spazi di ascolto nell'ambito dell'educazione sessuale ed affettiva nelle scuole secondarie di Milano. In collaborazione con Serenis, il centro medico online per il benessere mentale, Durex ha scelto di offrire un aiuto concreto per i genitori. Ad entrare nel dettaglio è Silvia Wang, CEO e co-founder proprio di Serenis. Serenis e Durex, come progetto a luce accese, vogliamo dare un aiuto concreto alle famiglie quando si parla di educazione sessuale ed affettiva. In famiglia c'è sempre molto imbarazzo quando si parla di queste tematiche e anzi la maggior parte delle famiglie proprio non tratta di questi temi insieme ai figli. Con questo progetto cerchiamo di dare un aiuto concreto per imparare a parlarne in famiglia, aiutando i genitori e i figli a parlarne senza imbarazzo e lo facciamo in maniera facile e gratuita tramite un colloquio gratuito e una prima seduta con uno psicoterapeuta. Per accedere al servizio basta andare su serenis.it slash Durex a Vincircese e si trova una pagina dove ci si può iscrivere e poi effettivamente prenotare il primo colloquio gratuito. Dal 21 ottobre inoltre saranno fruibili gratuitamente le quattro videopillole a cura dello psicoterapeuta Rocco Falconeri che Durex ha sviluppato con Eduglia dal sapere Treccani per aiutare i genitori nel dialogo con i figli sulla sessualità.